Oggi andiamo a vedere il capitolo numero 25 che si intitola Un Essere d'Energia Crea. L'attacco a New York e al Pentagono dell'11 settembre 2001 furono un punto di trasformazione nel nostro mondo, ma allo stesso tempo ci fu anche qualche cambiamento nel mio lavoro. Un momento di trasformazione nella raccolta di informazioni e del tipo di informazioni che ottenevo. Durante tutto il 2001 questo sembrava manifestarsi mentre gli esseri o chiunque siano mi stavano fornendo concetti sempre più complicati. Sembravano che indicassero che il mondo fosse pronto per queste informazioni. A volte rimpiango ai giorni più semplici quando la mia attenzione era focalizzata sulle vite passate e lo studio della storia. Ma non era più così. Non sarei mai ritornata a quei giorni e avrei dovuto continuare a progredire nell'ignoto ed inesplorato della metafisica. Dopo l'attacco dell'11 settembre mia figlia Nancy ed io eravamo bloccate nel caos che esplose negli aeroporti. Avevo appena finito di parlare ad un congresso in North Carolina e avevo passato la notte in una casa privata. Quella mattina dopo la sveglia stavamo preparando le valigie per raggiungere l'aeroporto e tornare a casa per qualche giorno. La nostra padrona di casa ricevete una telefonata da un'amica agitata che le disse di accendere la televisione. Le disse che il Pentagono era appena stato bombardato. Sopraffatta dalla sorpresa esclamai Ma questo è nei miei libri. Solo che Nostradamus disse che anche New York sarebbe stata bombardata. Dall'altra stanza lei gridò È meglio che venite qui, sono entrambe. Guardamò in oridite mentre le telecamere si spostavano da una parte all'altra dove i due eventi stavano accadendo simultaneamente. Poi in completa incredulità osservammo le tori gemelle collassare in un mucchio di macerie. Per dieci anni avevo tenuto conferenze sulle profezie di Nostradamus E questo era solo un possibile scenario, come lo chiamava lui. Uno che speravo sinceramente saremmo stati in grado di evitare. Ora le sue predizioni erano in piena luce sotto i miei occhi. Mi scosse nel profondo del mio essere. Dicevano sempre Forse potrebbe essere, è possibile, ma ora erano nella mia realtà. Dopo che io e mia figlia Nancy riuscimmo ad allontanarci dalla televisione, Sapevamo che dovevamo andare all'aeroporto dove avevamo dovuto prendere un volo per tornare a casa. In quel momento non sapevamo cosa sarebbe successo. Mentre guidavamo l'auto a noleggio verso l'aeroporto, ascoltavamo le notizie alla radio. Dicevano che tutti i voli, ovunque negli Stati Uniti, sarebbero stati cancellati e quelli ancora in volo dovevano atterrare immediatamente. Da oltre mare fecero tornare indietro i voli o li fecero atterrare in Canada. Questa era la prima volta che qualcosa del genere fosse mai accaduto negli Stati Uniti. Le implicazioni erano sconcertanti. Tuttavia, dovevamo andare all'aeroporto per capire cosa fare. Mentre ci avvicinavamo all'aeroporto Greensboro, notamo che sembrava un campo militare o una barricata della polizia. C'erano barriere, auto della polizia e poliziotti ovunque. Avevano già bloccato le entrate. Ci fermarono immediatamente e si poteva notare che erano tutti molto irritabili e agitati. Non ne sapevano più di quanto ne sapevamo noi. Nessuno ancora conosceva la portata della catastrofe. Ci dissero che non c'erano voli e che dovevamo allontanarci immediatamente. Ma dovevamo capire cosa fare dell'auto a noleggio. Con rilutanza ci lasciarono parcheggiare ed entrare. C'era un senso di sospensione nel vedere l'aeroporto completamente deserto. La donna dell'ufficio del noleggio disse che se consegnavamo l'auto non avevamo potuto prendere un'altra. Tutti i noleggi erano stati sospesi e anche tutti gli autobus della Greyhound. L'intera nazione era in uno stato di completa immobilizzazione. Guardai Nancy e dissi, ho ancora le chiavi, torneremo in auto. Le dissi che avremmo restituito l'auto quando saremmo arrivate in Arkansas. Non si lamentarono, era l'unica soluzione. Ci volerò due giorni al volante per tornare in Arkansas. Per tutto il viaggio nell'atmosfera pesante delle costanti smissioni radiofoniche. Appena arrivata a casa ero esausta e già che c'erano messaggi di diverse stazioni radiofoniche che mi volevano intervistare immediatamente a riguardo delle profezie di Nostradamus circa gli eventi. I miei libri Conversation with Nostradamus 1, 2, 3 erano gli unici che avevano gli eventi descritti in dettaglio. Il giorno successivo ricevetti una chiamata da Bob Brown che stava organizzando la conferenza UFO all'Auglin, Nevada, dove avrei dovuto presentare quel fine settimana. Avevano deciso di non cancellarla ma di proseguire in ogni caso. E stavano per partire dal Colorado per iniziare i preparativi. Dissero che alcuni dei loro presentatori provenienti dall'Europa non erano in grado di partecipare perché i loro voli erano stati cancellati. Nessuno sapeva come sarebbe andata la conferenza. Tuttavia, viste le circostanze, volevano che cambiassi il contenuto della mia presentazione dagli UFO alle profezie di Nostradamus. Disse che dovevo partecipare anche se avesse voluto dire viaggiare in macchina. L'idea non mi piaceva, visto che avevo appena guidato per due giorni per tornare a casa. Sabato, al momento di partire, riuscimmo a salire su un volo per Las Vegas mentre le linee aeree ricominciarono a volare limitatamente. La conferenza non raggiunse le normali aspettative di partecipazione. Nonostante ciò, tutti dissero di essere contenti che i Brown la portarono avanti. Altrimenti saremmo stati tutti a casa, attaccati alla TV, guardando orribili ripetizioni degli eventi. Almeno la conferenza ci tene occupati e focalizzati su qualcos'altro. La mia presentazione fu la più difficile che abbia mai dovuto presentare perché stavo parlando di una realtà che era solo una possibilità fino ad allora. Se si fosse avverata, allora cosa sarebbe stato delle altre che presagiavano un'orribile guerra? In molti modi fu una stranissima settimana. La cosa interessante era che quando ebbi una seduta con Mary qualche settimana prima, loro dissero che avrei iniziato a ricevere molte più informazioni di un altro tipo. Si sarebbe aperta una porta che mi era stata richiusa in passato e mi sarebbe stato possibile attraversarla. Durante quella settimana a Lauglin completai 12 sedute private, 10 delle quali contenevano sia informazioni da usare in libri futuri che messaggi diretti a me, incluso uno che aveva a che fare con la mia salute. Questi messaggi di solito erano condivisi alla fine della seduta. Quando chiedevo al subconscio se aveva qualche messaggio per il soggetto, oltre a dare loro il messaggio, dicevano a me qualcosa che dovevo sapere. Sembrava che loro stessero usando la trance dei miei pazienti per offrirmi sempre più informazioni. Molte delle mie sedute stavano prendendo delle pieghe interessanti. Sembravano come se mi stessero mostrando che non era più importante focalizzarsi sulle vite passate quando in precedenza andava bene per trovare le cause dei problemi fisici, malattie, fobie, allergie e problemi karmici. Tuttavia credo che la maggior parte delle entità che controllavano queste sedute stavano cercando di sottolineare che era ora di spostarsi ad un altro livello di comprensione. che semplicemente andava oltre lo sperimentare vite passate in questa dimensione. Stavano cercando di dimostrarci che siamo molto più di semplici spiriti che stanno facendo un'esperienza in un corpo fisico. Siamo anche qualcosa di molto più elevato, molto più complicato, che questa vita è solo una fermata del viaggio e non necessariamente la più importante. Apparentemente queste entità pensavano che le conoscenze affinché potessero vedere la propria vita da una prospettiva diversa e da un ulteriore piano di esistenza. Alcune persone possono essere pronte per questo, ma per altre potrebbe essere troppo difficile da gestire per il loro sistema di credenze. Cerco sempre di ricordarmi durante una seduta che il soggetto non riceve mai informazioni finché non è pronto. Se la loro mente cosciente, cioè il monitor o l'ego, non pensa che sono pronti, le informazioni non li verranno mostrate o lo scherma semplicemente sanerisce. Non contrasto mai questo meccanismo perché so che loro hanno molta più saggezza di me. E qui faremo un piccolo appunto perché quando dolore si riferisce a loro, lo sapete che sta parlando di un complesso di memoria sociale, come lo chiama Ra nella legge dell'uno, e cioè un gruppo di anime che hanno scelto di condividere la stessa porzione della coscienza. Quindi hanno unito le loro coscienze e parlano tutti per la stessa persona. E questi loro, questo complesso di memoria sociale, la religione lo chiama arcangelo. Andiamo avanti. Quando iniziai a lavorare con Jerry, un imprenditore che stava partecipando alla conferenza UFO di Loughlin, All'inizio c'era ovviamente molto a censura da parte della sua mente subconscia. Era quasi come se non fosse sicuro se fosse pronto per vedere le informazioni. Feci molte manovre prima che fosse in grado di riceverle. In circostanze normali, grazie alla mia tecnica, il soggetto scenderà dalla nuvola in una scena sospesa esterna e iniziano a descrivere ciò che li circonda. Questa seduta fu differente. Jerry si trovò a camminare in un tunnel, alla fine del quale vide una porta enorme. Immediatamente la descrisse come una porta energetica. Anche se non lo sapeva perché la descrisse così. Era curioso di scoprire cosa fosse dall'altra parte. Lei chiese come si apre una porta energetica. Disse che si faceva con la mente. Sto cercando di disolverla, ma non basta per lasciarmi passare. Frustrato disse, non riesco a passare. Sento di non essere pronto. Gli elementi non mi lasciano passare. Quando disse questo, la porta scomparve. Così presunzi che apparentemente non era ancora pronto per vedere cosa c'era dietro la porta. Il subconscio fa un lavoro meraviglioso nel proteggere da noi stessi. Non gli avrebbe permesso di vedere nulla che non poteva gestire. Questo era ciò che pensavo, ma mi sbagliavo. Visto che la porta era sparita, dovevamo andare altrove per trovare il luogo adatto da vedere per Jerry. Gli suggerì di cercare altrove per trovare qualcosa che lo avrebbe aiutato a comprendere la sua vita attuale. Infatti gli disse, non dobbiamo passare attraverso quella porta se non vogliono farci passare. Possiamo andare in un'altra direzione e trovare qualcos'altro di più sicuro che tu possa osservare. Qualcosa che riuscirai a comprendere ed è importante. Iniziai a contare per portarlo su una scena. Poi gli chiesi cosa stesse vedendo. Sorprendentemente si trovò su un'enorme astronave. È un'astronave enorme che sembra essere viva. Non è fatta di metallo o acciaio. Viva! E quei dolori si c'è. Investigando casi di UFO, molta gente condivise la sensazione che l'astronave su cui si trovavano era viva e consapevole della loro presenza. Viva! L'astronave stessa ha una coscienza, ha una forma ma non me la lascia vedere. Vedo solo quest'enorme stanza. C'è un giardino all'interno. Un giardino nella stanza. Era meravigliato anche lui. Sì, è quasi come una giungla planetaria. Come sulla terra. C'è vegetazione e acqua. Lo trovo affascinante. Come una grande sera. Sì, ci sono delle cascate. Questo luogo è enorme. Hanno la loro terra e si trovano nell'astronave. C'è acqua e vegetazione. Ci sono animali. Permette alla gente di viaggiare in un ambiente pacifico. Il soffitto deve essere molto alto se c'è una cascata. Si può vedere attraverso il soffitto. È trasparente. Si possono vedere i sistemi stellari. E tuttavia è racchiuso. Ha una sua atmosfera. Gli animali sono del tipo che si trovano sulla terra? Possiamo creare qualsiasi animale che si voglia. Ok, creiamo questo. È creato da una mente di gruppo. Il gruppo che sta viaggiando su quest'astronave. Ah, interessante. Ma avevi detto che l'astronave sembrava fatta di qualcosa che era vivo? Sì, sì, sì. Ha una sua coscienza. Abbiamo creato questa nave con la mente di gruppo. Così possiamo viaggiare con pensieri e un ambiente che mette a nostro agio. Lo facciamo così. Come portarsi dietro un pezzo del pianeta. Sì, alcuni dei ricordi migliori che abbiamo. Li portiamo con noi. Rende il viaggio più piacevole. Facciamo questo. Questo è solo una parte dell'astronave? Creiamo alloggi che sono vivi e possiamo parlarci. Comunichiamo con le nostre cabine. Questo ci permette di viaggiare. Comunicate con i vostri alloggi. Ah, con l'energia. L'intera nave è viva. Sto cercando di vedere le nostre sembianze. E si stavano divertendo. Trovavano tutto questo incredibile ed interessante. Ok, siamo energia. Siamo tutti energia. Ma possiamo creare qualsiasi forma che vogliamo. Possiamo creare corpi di qualsiasi forma e dimensione. E tutto nella mente. Se siete pura energia, come apparite? Fece una pausa, come se stesse guardando. Possiamo cambiare colore? Tutti i viola e stavano ridendo. È come un gioco. Stiamo cambiando i colori e le energie per giocare. Avete una forma? Possiamo prendere la forma che vogliamo. Ed era sorpreso. Ah, possiamo prendere la forma di palle, quadrati, triangoli. Possiamo prendere le forme di animali. È come un grande gioco. Siamo coscienza. Separate, ma siamo tutti connessi. Quindi, cosa sei tu nella tua forma normale? Solo energia. Energia cosciente. Sembra un tipo di intreccio, come un'energia ondulata. Può prendere qualsiasi forma, voglia, solo per giocare? Sì, e stava ridendo. Che io possa essere dannato. Allora, perché avete creato l'astronave? Presumo che sia un'illusione che apprezziamo. Ecco come viaggiamo in gruppo. Creiamo una nave. Possiamo creare cascate e metterci dei laghi con i pesci. Possiamo cambiare. È molto luminoso adesso. I colori sono davvero luminosi. Scintillanti. Fosforescenti. I colori degli esseri? Sì, e circonda gli animali. Possiamo metterci delle farfalle, delle libellule, dei uccelli. È incredibile come creare una Terra con le nostre menti. Solo che un'astronave. State creando il vostro luogo d'origine? Siamo stati in molti luoghi, quindi le cose che ci sono piaciute siamo in grado di replicarle con la mente del gruppo e condividerle tra di noi. Così per intrattenerci. Introduciamo diverse cose. Ricordi che abbiamo dei luoghi dove siamo stati. È fisico e solido? Non mi rispose. Si stava godendo ciò che vedeva. Ok, queste sono piramidi. E qui Dolores dice Iniziò a muovere le mani in area con movimenti ritmici e graziosi. Cosa stai facendo? Ci fu una lunga pausa mentre continuava a muovere le mani in area. Stiamo creando. E qui Dolores dice di nuovo Si stava proprio divertendo. Aveva un'espressione beata. Ci fu una lunga pausa mentre si godeva l'esperienza. Cosa state creando? Mondi, pianeti, dimensioni, sistemi stellari. Stava ridendo. Stiamo uscendo e stiamo creando. E aveva un'espressione beata sul viso. Ma sul vostro pianeta natale com'è? E qui Dolores dice di nuovo Non voleva parlare. Era proprio divertito. Alla fine mi rispose E' fatto con la mente di gruppo. Non è un individuo. Lo si fa con la mente di gruppo. Dovete agire tutti assieme? Sì, è come una famiglia di anime che creano insieme. Noi siamo, noi stiamo usando le nostre menti. E' come un gioco in cui si creano questi universi magnifici, stelle. Facciamo tutto insieme. E iniziava ancora a muovere le mani, aggraziatamente. Il tuo pianeta natale è un mondo fisico, un mondo solido? E qui Dolores dice Adesso ho accumulato abbastanza esperienza nel parlare con esseri di energia per sapere che tutti i mondi sono fisici o solidi come consideriamo il nostro. Ci sono moltissime possibilità che sorpassano l'immaginazione. No, no, non lo è. E' in un'altra dimensione. Non è nella vostra dimensione. Ha diverse forme, strutture e colori. Non è solida. E' in continua trasformazione. Sono figure, simboli, strutture e colori diversi. Dove vivi? Che sia sulla nave o sul vostro pianeta natale. Assumete, dovete assumere alcuna sostanza o cibo? Qualcosa che vi permette di restare in vita? No, no. Cosa vi tiene in vita? Solo l'energia. Siamo in grado di creare e abbiamo dei corpi se vogliamo. Viaggiamo grazie al pensiero per esplorare e creare. Andiamo in diversi luoghi con la mente. E' un gioco. E' come bambini che si stanno divertendo. Ma ciò che create permane dopo che ve ne andate. In alcune dimensioni si dissolve. In altre dimensioni diventa fisico. Siamo in grado di creare il fisico nelle dimensioni inferiori. In altre dimensioni sono solo simboli. L'energia cruda prende diverse forme e strutture. e non rimangono solidi. No, siamo in grado di solidificarlo. Stavo pensando che fosse con un ologramma, forse si dissolve o sparirebbe dopo che avete finito di giocarci. Possiamo andare su pianeti che si sono già formati e potremo scendere. Potremo anche diventare uno con tutto. Uno con tutto ciò che vogliamo. Alberi, animali e sperimentali. Con la nostra mente possiamo mettere la nostra energia in quelle creature, quelle forme solide. È come un gioco. Come fanno i bambini. Ma non restate lì? Vi basta sperimentarlo? Sì, ci basta sperimentarlo. E poi proseguiamo in gruppo. Viaggiamo in gruppo. Ma vi è permesso di entrare in altri oggetti e cose? Sì. Sto pensando al fatto che animali o umani hanno un'anima. Noi abbiamo anime. Sì, abbiamo delle anime. Ma avete il permesso di entrare in un corpo dove c'è già un'altra anima? Con il loro permesso sì. Perché sanno che non li invaderete o rimarrete. È questo ciò che vuoi dire? Esatto. Solo per sperimentare. Noi non invadiamo. Noi onoriamo quell'anima. Dobbiamo avere il permesso. Solo per l'esperienza e poi andate avanti? Sì. Questo è interdimensionale. Siamo in grado di andare in qualsiasi dimensione. Questo significa che siete molto avanzati? Non c'è una parola o concetto per questo. È solo conoscenza. Volevo dire, avete mai sperimentato vite inferiori e vi siete evoluti fino a questo stadio? E fece una lunga pausa. Avete mai avuto incarnazioni in corpi fisici? Sì, possiamo se vogliamo. Sto cercando di capire come funziona. Vi siete evoluti a questo stadio dopo aver completato le altre vite e il karma? O come funziona? Questo è un pianeta speciale. Quello da cui provenite? Quello dove ci troviamo è, stava ridacchiando. La Terra è un pianeta speciale. È un punto di incontro per altre anime e altri gruppi da altre aree. Altre dimensioni. È come un villaggio vacanza dove si viene e si incontra altri gruppi d'anime provenienti da altre zone e dimensioni. È diversa dagli altri luoghi dove siete già stati? Sì, tutti noi la sperimentiamo. È un luogo speciale. Un luogo di incontro per le anime. È il migliore. Tutti conoscono questo posto. Cosa c'è di differente? È l'energia dell'amore. Oh, quindi questo non si trova in altri luoghi. Non come questo. È il portale per il creatore. E questa connessione sperimenta ogni cosa. Quindi questo non è possibile in altri luoghi. Sì, ma non come in questo luogo. È un po' come... Shangri-La sulla Terra. Rise, beh, è la Terra. Pensavo che fosse... Aveste bisogno del permesso per creare. Abbiamo il permesso. La sorgente, il grande creatore. Lui sperimenta attraverso di noi. Potreste essere descritti come un co-creatore? Sì, certamente. Vi permettono di creare... Ma avevi detto che in parte si dissolve? È come dipingere un quadro. E poi dipingerne un altro sopra. A quello. Si può cancellare o andarci sopra. Rinforzarlo, ricrearlo. Quindi intendi che sia qualcosa in costante cambiamento? Sì, potrebbe esserlo. Con la Terra, se create qualcosa, rimane? Con la Terra sì, ma anche lei sta cambiando. La Terra è una coscienza di gruppo. E con questo io mi fermerei qui. Domani partiamo da qui. Grazie mille. A domani. Ciao. Ciao. Ciao.